La prevenzione resta l'arma primaria per difendersi dal cancro. Il mese di ottobre, da sempre mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, quest'anno sembra essere passato inosservato. Ci pensa il comune di Sansa a ricordarlo attraverso un'iniziativa che proseguirà anche nel prossimo mese. Piazza 24 maggio, centro neuralgico del comune sansese, si tinge di rosa. Un'iniziativa voluta per ricordare l'importanza dei controlli preventivi che possono essere la prima e determinante cura per vincere la battaglia contro il cancro. Ora più che mai è necessario ricordare l'importanza degli screening preventivi, soprattutto in un momento difficile come quello che si sta attraversando con l'emergenza coronavirus e con ripercussioni anche nella diagnosi e nella cura di altre patologie gravi come appunto le patologie tumorali. Un piccolo ma significativo gesto dell'amministrazione comunale sansese per manifestare la propria vicinanza a tutte le donne, ma soprattutto per sensibilizzare l'ASL di Salerno ad adottare adeguate misure di assistenza e agevolare i controlli preventivi in maniera tale da poter agire tempestivamente sul male e aumentare le possibilità di guarigione. Invitiamo le nostre concittadine, commenta il sindaco Vittorio Esposito, rivolgendosi alle donne, a tenere in debita considerazione la prevenzione che deve restare sempre un punto fermo per combattere il tumore al seno. Per il 2020 si prevedono 377.000 nuove diagnosi di cancro, di cui 195.000 su uomini e 182.000 nelle donne. Una leggera flessione di mille unità rispetto allo scorso anno negli uomini, ma un aumento di 6.000 casi accertati di tumore sulle donne, di cui ben il 14,6% è riferito a diagnosi di tumore al seno. Da qui l'iniziativa di sensibilizzazione che vedrà il simbolo della piccola cittadina ai piedi del Monte Cervati, posto nella rotatoria della piazza 24 maggio, tingersi di rosa per tutto il mese di novembre. Lo scopo della nostra iniziativa, ribadisce l'assessore Marianna Citera, e quello di sensibilizzare le nostre concittadine sull'importanza di sottoporsi agli screening di controllo.